Emma! Cristo santo! No, merda! Cazzo! Merda! Che schifo, porca troia! Emma, sei tu! Speriamo di non cadere. Non è un buon segno, porca troia! Speriamo! Oh, magari c'è qualcosa. Anbag! Speriamo! Speriamo! Oddio, dove cavolo è? 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 Kaylee? Kaylee? Nick, ma che cavolo è? Nick, ma che cavolo è? Volevo è? Volevo è? Volevo è? Nick, dai! Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? è? è? Che cosa ho fatto? dobbiamo? dobbiamo? che accade? Che accade? già? Che cosa ho fatto? è? che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? prodotto? da adesso? se avete i telefoni e vedete qualcosa fate una foto o un video ok tutto bene abby? e perché non ti fai un giro e vedi se trovi qualcosa per aiutare Nick? Chissà dov'è Caleb Alla prossima Questo posto era così diverso solo 12 ore fa Alla prossima Alla prossima Ecco va meglio Grazie Ehi Ok Nick ha qualcosa che non va Cazzo sta molto male Avete visto come ha dato di matto in acqua? Sì sembrava come un pesce fuori dall'acqua No? Ehm se E poi qualcosa non andava quando gli ho pulito le ferite Alla baita Cioè? Aveva i vestiti coperti di sangue ma non ho trovato morsi O graffi o altro Non la smetteva di agitarci come per nascondere le ferite Ah Che sia rabbia? Non ha la bava alla bocca Abby non la pensa così Vero? L'acquafobia non è un sintomo della rabbia Idrofobia sì Ma riguarda più la paura di bere non di bagnarsi O che sembrava... Il mio gatto nella vasca da bagno Già Abby Sì? Posso chiederti una cosa? Ma certo Io ti piaccio Nick Ti prego Dimmelo Ho Passato davvero una bella estate insieme a te Proprio 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 Cosa? Proprio una risposta comoda Abby Dimmi Devo chiederti una cosa Ehm Ok Vai Perché non ti piaccia Abby? Nick Sei Strano No 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 Sono Nick Il solito vecchio stronzo Ma Che cavolo No Sto male Abby Non ti importa di me? Non è vero Io Tu non sei molto forma eh Povera stupida Abby Basta Breda facile Fin troppo facile Non sei in te Non sei in te Questo Questo Non sei tu Oh Abby Abby è tutto ok Porca troia Sì Non sei in te Sì 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 No! 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 L'ho ucciso... L'ho ucciso... I morti di solito non saltano dalla finestra e scappano nella foresta? Proprio non capisco. Nick era... Quello non era Nick. E dove sono Jacob e Emma? Non li vediamo da un po' troppo tempo, no? Probabilmente saranno in una delle casette a darci dentro come Ricci. Non lo so, tutta questa storia non mi convince per un cazzo. I cacciatori. Chris che se ne va. Nick. Kaylee. Oddio. Kaylee. Ehi! Oh, cazzo. Dove cazzo è Chris Huckett? Chi c'è? Mi serve aiuto. Ti prego. Chi sei? Mi chiamo Lora Kirni. Eh? E quindi fammi entrare, qui non è sicuro. Infatti c'è una pazza con un fucile che uccide la gente! Io? Lora Kirni. Non uccido la gente. Porca troia! Sei Lora Kirni! Tu sei Lora Kirni! Sì. Quella che doveva lavorare... Dovevi stare in infermeria, giusto? Non sei mai arrivata. Tu e quell'altro, com'era... Max? Sì, Max! Sì, sì, sì! Il signor Huckett ha detto che avete cambiato idea all'ultimo minuto. Cristo santo. Credo che dovremmo sentire che cosa ha da dire. Apriamo. Ok. Ora apri la porta, lentamente. Tu... Tieni le mani in alto. Ok. Eccoci un'altra volta. Solo... tu e io. Perché non diamo insieme un'occhiata a ciò che hai trovato? Hai cercato per bene? Le carte non sono solo ninnoli. Dovresti saperlo ormai. Ti aiutano. Io ti aiuto. Vai, allora. Su, su. Fuori uno, ricorda. Non è forse emozionante?